ciao bimbe oggi in questo video ci riscaldiamo la schiena e come primo esercizio facciamo gatto felice e gatto arrabbiato ci mettiamo quattro zampe e facciamo 10 gatto felice e 10 gatto arrabbiato gatto arrabbiato mi raccomando guardatevi sempre l'ombelucco e gatto felice dovete guardare bene il soffitto dopo che avete fatto 10 gatto arrabbiato e 10 gatto felice tenete gatto arrabbiato per 10 secondi dopo che sono passati 10 secondi fate gatto felice lo tenete per altri 10 secondi dopodiché fate le flessioni laterali 10 da una parte e 10 dall'altra così 12 per per 10 volte e poi al contrario dopodiché passate ai ponti dopo che avete fatto 10 anni avanti e 10 anni indietro mi raccomando gambe aperte quanto le spalle braccio vicino alla testa gommiti chiusi e salite in ponte per cinque volte ma la quinta volta poi tenete il ponte per 10 secondi e via lo fate per 5 volte e poi alla finita tenete e poi alla fine mi raccomando strecciate la schiena e fate scatolino chiuso e per oggi abbiamo finito